Il Veneto ha perso il 20% della popolazione giovanile negli ultimi 30 anni e le previsioni demografiche dicono che nei prossimi 20 perderemo un altro 12% della popolazione giovanile. Non solo sono sempre meno. In Veneto i giovani hanno anche difficoltà a trovare un lavoro stabile. Secondo il Focus della Fondazione Corazzin per la Cisla regionale su dati di Veneto Lavoro, le assunzioni di giovani sotto i 30 anni sono cresciute solo dello 0,5% rispetto al 2018. Annocchi aveva visto addirittura un più 56% rispetto al 2013. E addirittura i dati scendono del 3,4% rispetto alla ripresa nel 2022 del biennio post pandemia. Ciò che invece rimane sempre uguale è l'instabilità del rapporto lavorativo. Siamo fermi da 10 anni a circa un quarto dei contratti di lavoro stipulati con i giovani che hanno caratteristiche di stabilità, che per noi vuol dire contratti a tempo indeterminato, che sono e restano circa il 10% e contratti di apprendistato, che sono circa il 13-14%. Quindi la stragrande maggioranza dei contratti stipulati con i giovani sono contratti flessibili, tempo determinato oppure contratti di somministrazione. La provincia col più basso numero di contratti a tempo indeterminato è Venezia, 5,6% a fronte di una media regionale che sfiora il 10%. Secondo la CISL non ci sono dubbi che questa fragilità del lavoro giovanile crei disaffezione verso il territorio e uno stimolo a cercare occupazione altrove. Sarà importante l'approvazione a livello regionale della nuova normativa sugli ambiti territoriali sociali che potranno diventare luoghi di governance anche delle diverse dinamiche presenti nel mercato del lavoro giovanile.